Quinta corsa premio Udayama, miglio per femmine di 3 anni, sono in 12 al via, la prima fila per Zadira del Circeo, Zona Jet, Zanda, Zucchero Model, Zanna delle Selve, Fire Romance, Zumba S, Hans, seconda fila per Zara Pierre, Zatura, Zebra Cobra, J-Bay, Zante Laser e Zelda Dete. Di Galoppo, Fine Romance, parte piano Zara Pierre, allo stacco lottano in 4 su di una linea, sbaglia però Zucchero Model, e allora passano in lotta Zanna delle Selve, Zumba Hans, Insiste all'esterno Zumba Hans nei confronti di Zanna delle Selve, terza posizione per Zanda, a precedere Zona Jet, Zadira del Circeo, Zelda Dete e Zara Pierre. Zander, inseguono dopo errore anche Zebra Cobra, J-Bay e Zante Laser, rallentamento da parte di Zumba Hans, dopo aver scavalcato Zanna delle Selve che torna in testa anticipando le mosse di Zelda Dete che si trascina a Zara Pierre. Terza in corda sempre Zanda, a precedere Zona Jet e Zandira del Circeo, paletto di metà gara che Zanna delle Selve raggiunge in 1-1-1, ma ora va decisa Zelda Dete ad incalzarla, la impegna. Le due appaiate davanti a Zara Pierre che affianca Zumba Hans, all'esterno migliora Zona Jet che ha girato Zanda, Zelda Dete insiste al lato di Zanna delle Selve che replica, poi Zara Pierre. Quindi ancora Zanda e Zona Jet, 1200 metri in 1-1,34 per Zelda Dete che preme all'esterno di Zanna delle Selve, poi Zara Pierre, terza ruota per Zona Jet. Ancora Zanda e Zumba Hans, Zelda Dete che passa chiaramente su Zanna delle Selve, ma deve guardarsi da Zona Jet, Zelda Dete in vantaggio su Zona Jet che attacca Zanna delle Selve. Si distende Zelda Dete, prende vantaggio e conclude netta con Alessandro Gocciadoro davanti a Zona Jet che piega Zanna delle Selve. 2 minuti e 7 decimi sul mio cronometro per Zelda Dete, media di 1,15,4 per la figlia di Varen che dopo aver agito all'esterno di Zanna delle Selve passa con sicurezza in retta d'arrivo e va a vincere nei confronti della regolare e incisiva Zona Jet che piega Zanna delle Selve per il secondo, 12-2-5 l'arrivo ufficioso della quinta di Capannelle. Grazie a tutti.